Siamo qui con Cristina Dronadi, la protagonista dell'Era Legale. Com'è stato quando hai ricevuto il copione di questo film? Guarda, più che il copione, perché in realtà come avete visto è un mokufilm, quindi non c'era un copione, proprio c'era un'idea. Quindi Enrico Caria mi ha invitato un giorno a pranzo e ci siamo fatti questa chiacchierata. Già sentire che era un film, Napoli nel 2020, dove diventava la città più pulita, ordinata, all'avanguardia, dove si sconfigge la camorra, la criminalità organizzata, eccetera, come fai a dire no? Cioè ho detto va bene, poi dico ma qual è il mio personaggio? È la camorrista. Ha maggior ragione, perché è una camorrista che ha un ruolo molto positivo, nel senso che non solo si dissocia, ma aiuta Nicolino Amore, il sindaco di Napoli, a risolvere il problema della criminalità organizzata legalizzando la droga e facendo tutta una serie di cose e quindi era un personaggio, nella sua negatività, molto positivo. Un riscatto vero e proprio. Un riscatto vero e proprio, poi è chiaro parliamo di fanta politica, fantascienza, fanta tutto, però magari ce ne fossero. Il che non significa che però immaginare, cioè se noi veramente vogliamo arrivare a un 2020 in cui Napoli, magari non in questo modo, ma può diventare una città diversa, dobbiamo rimboccarci le maniche e smetterla di piangerci addosso, perché è vero che ci sono i luoghi comuni, però siamo anche noi che dobbiamo cominciare a lavorare per cambiare le cose, veramente, insieme a De Magistris, ma anche noi, assolutamente. La struttura del mockumentary è appunto questa struttura dove è un documentario su una cosa falsa che però intreccia continuamente la realtà quotidiana. La cosa che si discuteva prima in conferenza stampa è che è una cosa bella, è triste allo stesso tempo, è come il fatto che un film che rappresenta la Napoli di tutti i giorni praticamente faccia notizia, quando invece purtroppo i mass media tradizionali ci presentano continuamente la solita faccia di Napoli triste, disagiata, quando in realtà non è proprio così. No, esatto. È vero anche che Napoli si vende in tutto il mondo in questo modo, è un prodotto, è un prodotto quindi ha il suo ritorno anche quando va a finire sulle copertine del New York Times, piuttosto che del Time, piuttosto che dei più grandi quotidiani e settimanali del mondo. Però è vero anche che Napoli è così, è una città piena di contraddizioni, è una città dove c'è contemporaneamente il molto alto e il molto basso. Il problema appunto è riequilibrare le cose per diventare una città normale. Io credo che veramente c'è bisogno di normalità, di quotidianità. Siamo stanchi di finire e sui giornali e per la bellezza e per la bruttezza di Napoli. Però ripeto, per fare tutto ciò, per arrivare a tutto ciò dobbiamo essere noi per primi, a non considerare più Napoli un prodotto che si vende pur di venderlo. Cioè se uscissimo da questa logica del commercio a tutti i costi, forse farebbe bene anche a noi, farebbe bene a tutti, farebbe bene alla cultura. Cioè basta televisioni, basta indici d'ascolto, cioè torniamo alla normalità, al valore reale delle cose. Sembra questa fantascienza, eh lo so, però uno ci prova. La cosa interessante e bella di questo film è il come si tratti determinati argomenti, argomenti tosti, argomenti forti comunque d'attualità, in maniera però simpatica, ironica e satirica. Soprattutto forse è la vera chiave di lettura per far tornare a discutere la gente comune tra di loro di questi problemi. Infatti non a caso, vedi, non solo utilizza l'ironia, la satira, anche il fumetto, perché ci sono alcuni passaggi del film in cui sono stati creati proprio questi siparietti fumetti. Ma perché probabilmente per veicolare delle cose così forti, così dure, così pesanti, così importanti, c'è bisogno di una strada che non sia la strada proprio della denuncia, come potevano essere i film come Gomorra, eccetera. Va tutto bene, l'importante è che si veicolino degli argomenti che sono molto, ma molto seri. Concordo pienamente. Speriamo a questo punto che quindi il film abbia il successo che merita. Io me lo auguro, certo, non sarà facile perché nelle sale non si è abituati a un prodotto del genere. Siamo abituati a Michael Moore, però, e abbiamo visto che i film di Michael Moore hanno sfondato da tutte le parti, eccetera. Quindi speriamo che anche il pubblico italiano vada a vedere un film italiano che però ha una modalità che è un po' bizzarra, no? E quindi speriamo, credo che bisogna pubblicizzarlo nella maniera giusta. Sì, anche perché sono convinto che sia una delle tante strade da dover perseguire per migliorare questo paese in toto. Assolutamente, appunto a parte Napoli, ma tutta l'Italia, voglio dire, ci sarebbero tante cose da poter dire in un modo diverso. Esatto, grazie mille. Grazie mille, grazie mille.